Eccoci qua con Luigino e Riccardo che ci illustreranno un po' come si fa la puttatura verde e che cos'è la puttatura verde. Il lavoro iniziato oggi della puttatura verde al fine di eliminare dagli speroni e dalla pianta dei germogli poco utili o messi in posizioni sbagliate diciamo. Quindi andremo ad eliminare sul fusto, rispetteremo la vegetazione degli speroni lasciando un carico di germogli utile per i fini della produzione, andando a togliere i doppi germogli e quelli messi posizionati sotto lo sperone. Un'operazione veloce, qui abbiamo rispettato gli speroni che erano 1, 2, 3, 4 e 5, come vedete abbiamo posto un po' più di ordine sulla vegetazione rimasta sulla pianta.